Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della conferenza episcopale italiana, è intervenuto al quarantesimo meeting per l'amicizia tra i popoli che si è aperto a Rimini. Si è rivolto ai ragazzi ricordando che più di ogni ideologia politica le giovani generazioni rischiano di essere attratte da un materialismo senza alcuna cura verso l'altro, che sta nella sofferenza e dunque senza uno slancio autentico verso il futuro. Poi anche un passaggio sulla politica attuale. Ascoltiamo. Ho la netta sensazione che il nostro paese non riesca minimamente a valorizzare i talenti, le capacità e le attitudini dei nostri giovani. I giovani che io conosco e che ho conosciuto in molti anni di sacerdozio sono infatti giovani ricchi, anzi ricchissimi, non di denaro ma di talenti. Nella maggioranza dei casi però questi talenti non vengono riconosciuti, rimangono sepolti nel deserto, o forse dovrei dire, nella palude della nostra società. Lo ha detto il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, intervenendo al quarantesimo meeting per l'amicizia in corso a Rimini. Parlando sul tema non fatevi rubare i sogni, sono il futuro. Il Cardinale ha affermato che in moltissimi casi ci troviamo di fronte a delle persone che vivono un profondo non senso esistenziale perché non riescono a intravedere il futuro. È triste quel paese che non sa dare speranza ai propri figli, è triste quel paese che non sa progettare il futuro, che non riesce a sanare le ferite della propria storia. In questi anni ho incontrato e conosciuto moltissimi ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco, che hanno desiderio di mostrare le proprie capacità e di applicare quello che hanno studiato, ma hanno perso la speranza di trovare un ruolo e un posto in questa società avida e arida. Hanno perso cioè speranza di trovare un lavoro degno che non sia fatto solo di precarietà e umiliazioni quotidiane. L'incremento costante dell'emigrazione dei giovani italiani all'estero è un fenomeno di cui si parla poco. Sui media ha denunciato il Cardinale che ha ravvisato lo sviluppo progressivo di una società vecchia e immobile. Vecchia non solo per l'età quanto per lo spirito. Uno spirito di corporazione e conservazione che fa sopravvivere consorterie e oligarchie, amicizie e spirito di clan. Ai giovani e alle loro famiglie ha concluso Oggi dico Ragazzi alziamoci, facciamolo insieme senza paura, con coraggio e gioia pura.